Al Calbi risulta ancora fatale la zona Cesarini. La formazione di Maurizio Galli, espulso alla mezz'ora di gioco, domina in lungo e largo, riuscendo a sbloccare la gara nei minuti finali con il neoentrato Rizzitelli, ma all'89esimo il Serravezza trova il pareggio con un gol molto discursone dopo gara. A fare compagnia al tecnico di casa Galli ci sarà anche il train all'avversario Vangioni, che sarà espulso dopo il pareggio dei suoi. Arbita la gara Barbiero di Campobasso, coadjuvato da Chiavaroli di Pescara e Lombardi di Chieti. Con le immagini della gara ci spostiamo già al secondo minuto, quando i migliori in campo dei suoi, un certo Federico Perantozzi, realizzano la rovesciata che viene sventata poco prima dalla linea di porta, dalla retroguardia ospite. Sempre dalla bandierina arriva l'unico tentativo ospite. Il traversone viene sventato fuori aria con la battuta dei bagnai, che viene respinta dalla difesa giallorossa, oggi in divisa bianca. La marianese cattolica gioca bene e si diverte, lo scambio Mannuzzi-Garavini porta un traversone sul secondo palo, dove Terenzi fa da sponda per la corrente Goh, che alza la mira. Mannuzzi fa gridare a Goh al minuto 21, quando direttamente a calcio piazzato, il pallone si perde sull'esterno della rete, convene rimasto a guardare. Al ventisettesimo la marianese cattolica recrimina, bellonga domestica la sfera, si lamenta per un presunto fallo di mano. L'azione prosegue, Goh viene disturbato al momento della conclusione, le proteste insistenti inducono il direttore di gara comunque a rimanere irrimovibile. Per proteste verrà in seguito espulso il tecnico Maurizio Galli, alla sua quarta gara alla guida tecnica dei cattolichini. La marianese cattolica prosegue nel suo forcing offensivo, la punizione di Merlonghi crea scompigli in aria avversa, ma Pierantozzi ancora una volta in acrobazia ci prende gusto, la sua rovesciata si perde al lato. Primo piano meritato per il centrale difensivo, il monologo prosegue, Garavini serve Merlonghi, l'attaccante domestica la sfera, poi cerca un tiro a giro senza trovare fortuna. L'ultima emozione dei primi 45 minuti la regala l'incerto Venet, assist che sa tanto di regalo per Goh, ma l'attaccante spiega così l'occasionissima del vantaggio. Squadra riposo sullo 0-0, nella ripresa si riparte dagli attacchi locale, da punizione di Manuzzi, Pierantozzi e chi se no centri legno superiore della porta difesa da Venet. A settimo lo scambio Signori Goh porta la penetrazione in aria avversa dell'attaccante che viene estorpato al momento della conclusione dalla difesa avversaria. Dall'angolo lo scambio corto, Manuzzi Signori porta al tiro finale Gaioli, doppia conclusione per il numero 6 in maglia bianca, l'ultima è da dimenticare. Ci prova anche il neoentrato Rizzitelli che su assist di Garavini di testa spedisce alto. La punizione di Manuzzi è un primo avvertimento per la porta di Venet e si dimostra incerto quando Rizzitelli da posizione proibitiva indovina angolo e traiettoria con la complicità per l'appunto dell'estremo ospite. Un gol che sa di liberazione di meritato vantaggio, il replay ci mostra la prudezza dell'attaccante in maglia numero 9. All'ottantonevesimo sette minuti più tardi Seravezza pareggia, il pallone alzato da Granaiola è preciso per l'inserimento di Saporiti il quale getta in mezzo il pallone Chefantini. Altro neoentrato trasforma in oro trovando in gode pareggio contestatissimo dalla Marignanese Cattolica per un presunto fuorigioco. Anche in questo caso il replay ci aiuta a comprendere e valutare la situazione da gioco con il direttore di gara Barbiolo di Campobasso che in questo caso appare nuovamente irrimovibile. 1-1 e palla al centro. C'è solo il tempo per vedere l'espulsione anche del tecnico Vangioni prima che Barbiolo di Campobasso decreti la fine del match. Occasione persa per la Marignanese Cattolica che getta al vento tre punti importantissimi. Nonostante l'ottimo gioco ancora una volta maledetti minuti finali e qualche giudizio arbitrale apparso certamente discutibile.